Come si vede io sto con la mascherina e quindi la fiera si terrama nel rigoroso rispetto delle regole che sono il distanziamento sociale, l'igienizzazione e le mascherine. Perché se siamo bravi a non riportare nelle relazioni internazionali il virus possiamo recuperare e diventare tra i primi paesi europei del mondo come paese Italia. La fiera è una delle opportunità che vogliamo dare non solo agli agricoltori di questa vallata perché ci sono due o tre momenti di riflessione sull'economia e il futuro dell'economia del dopo Covid. Sui temi del melograno che è una produzione importante che la ritroveremo anche nella fiera e nell'esposizione che faremo nell'ultimo weekend di novembre-dicembre quando parleremo di tartufo, di olio extravergine d'oliva e di melograno. Quindi facciamo una riflessione anche sulla produzione del melograno nella fiera di Talacchio. E poi una riflessione su questi maledetti insetti che danneggiano enormemente l'agricoltura. Poi ci sono momenti di divertimento, momenti di produzione e di riflessione dell'economia agricola. L'inaugurazione sarà sabato prossimo alle 17, il taglio del nastro. Ho invitato il nuovo Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali eletti. Quindi coinvolgiamo tutte le istituzioni a prescindere da chi sono di volta in volta governate.